Quest'anno al SAIE prenderemo parte alle iniziative EIST, l'associazione italiana del software tecnico, portando contenuti di interesse per il ricco programma di eventi in arena. L'ingegner da POS e il famoso Pino Mangione di Topo Program terranno un interessantissimo evento di formazione sul tema della fotogrammetria applicata al rilievo di fabbricati e la digitalizzazione BIM. L'evento rilascerà crediti formativi professionali per i partecipanti e se anche tu sei un tecnico e consideri questo tema un'opportunità per la tua professione, potrai trovare una soluzione che copre tutte le fasi del lavoro, dallo scatto delle fotografie fino ai modelli BIM IFC e gli elaborati grafici. Per saperne di più, visita il link in descrizione.